Ciao a tutti ragazzi, allora oggi facciamo un altro episodio con il nostro Amazing Princess Sara quindi cominciamo subito la nostra bella partita senza perdere ulteriore tempo Stiamo a sapere sulla signora Bellissimo Pistare di Elba Ah, sti pipistrelli di cacca Pistare di Elba Pistare di Elba Pistare di Elba Pistare di Elba Oh, bellissimo Lo zombie mezzo arciccione, no? Vedevo proprio Abbiamo cominciato bene la partita, come sempre Questo gioco ci dà sempre di Tanta, tanta, tanta Voglia di Ci da farsi girare il Zebedee Pistare di Elba Pistare di Elba Pistare di Elba Pistare di Elba Questo devo spagnare se no risuscita Questo già così stava buffo Ma meglio così Che giottone Morivo Oh Questa cosa? Ah ho capito E vedi un robot Grazie Mi serviva Ma perché mi riesco a farla trovare? Che fissa E' proprio scritto ronso E' uno sempre un po' stronzo Eh sì Guarda Vendevo carciosi Ah Strelli freschi Strelli freschi La ginnastica non siamo amici Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Mi ci sarei giocato i garzoni E avrei pure vinto No no cosa so No 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 Cioè clero vaticano stai zitto stare zitti niente non è giornata il destino ha detto questo non è giornata perchè non dargli redda sto deconcentrando cose sembrano facili ma non è così non è così salti di mezzo millimetro che palo a salvagna c'è meno da sarda sinceramente a salvagna c'è sta saltà pure là sta saliacita del stomaco manco poco tanto moriremo già lo so facciamo le cose assurde e poi si muore così buffo ho perso troppa vita non c'è modo per recuperarla così spadata non ci aiuta perchè niente non ci ha perso so continuare a perdere ovvio basta ma mori basta mi sono stufato si 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 spiccia non mi stressa perchè qua già sto stressato di mio vediamo di farlo vediamo di farlo a mazzetta questa volta basta con i fail facciamo passare il pipistrello perchè non voglio venarli ecco mezzo millimetro mamma mia quando ci si mette non riesco a prendere neanche i tempi di un salto del cavolo chiedere il lipos mamma mia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, costi non morti. Cagatura di Gats. Oh, costi non morti. Oh, costi non morti. Oh, costi non morti. Oh, costi non morti. Ma guarda che è proprio una merda. Oh, costi non morti. Oh, costi non morti perché... Via. Me ne dovete andare. Lo dico io? Lo dico... 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 ma vaffanculo volevo prendere lui andiamo avanti andiamo indietro avanti no vabbè ragazzi io ho deciso che non sono nelle condizioni migliori per continuare la nostra bella partita quindi ci fermiamo al nostro checkpoint riprenderemo sicuramente una nuova partita sperando che ci vada meglio di oggi perché sinceramente oggi è una partita veramente una sozzeria incredibile comunque non è sempre domenica anche se oggi è domenica comunque noi ci vediamo ai prossimi video spero che il video vi sia piaciuto al solito da Ryuzhenka un bel ciao ciao